Sono la fondatrice di Green Manager Lab, un insieme di format di formazione dedicata ai manager, alle prime linee delle aziende, al fine di sensibilizzarli sulla tematica ambientale in termini di consapevolezza del nostro agire quotidiano. Il format che ho voluto creare voleva essere in qualche modo esperienziale al fine di permeare più concretamente questa formazione nelle coscienze, nel vissuto, piuttosto che sentire, ascoltare, vedere video, interviste, documentarsi, presentazioni che ti danno, comunque ti offrono qualcosa ma non lasciano un'impronta vera di quella che poi è la tua impronta. Quindi un gioco di parole per raccontare un po' questo format che alla fine si è concretizzato in una sfida organizzata a squadre in cui appunto ci si sfida chi impatta di meno attraverso una serie di attività che sono molto coerenti con quelle che facciamo, ossia ci muoviamo, consumiamo energia, mangiamo, produciamo rifiuti, siamo attori di consumi e quindi comunque dovremmo avere una certa consapevolezza o meno di cosa sta dietro anche alla produzione di oggetti o di servizi e tutto questo lo traduciamo con un unico parametro che sono le emissioni di CO2 che questo dà il punteggio fondamentalmente alla sfida e che poi decreta un team vincitore piuttosto che un altro. Alla fine di questa sfida che comunque è molto esperienziale dicevo perché io ti faccio giocare, ti faccio fare delle azioni, delle attività concretamente su ogni tematica quindi per farti toccare l'energia ti faccio caricare uno smartphone in qualche modo che non voglio svelare. Per parlare di alimentazione cucini, scegli una ricetta pensi che sia la meno impattante possibile e la realizzi. Per parlare di mobilità ti faccio arrivare dove faccio il corso in un certo modo, devi ragionare per squadra su come arrivare in maniera meno impattante. Finito questo gioco fondamentalmente, che comunque ti fa anche rispondere a delle domande e ti sensibilizza, ritorni a essere azienda o comunque team di un'azienda e provi a pensare quali azioni sono più urgenti da implementare nella tua realtà lavorativa. Questo format è nato nel 2016-2015 proprio perché sentivo che c'era diciamo bisogno di creare un commitment iniziale da parte delle aziende e che senza la consapevolezza il commitment non poteva avvenire. Per cui il primo passo, il primo vero passo è essere consapevoli che il nostro agire ha comunque un impatto. Decidere poi quale impatto vogliamo lasciare e come essere meno appunto pesanti sul pianeta e anche nei confronti degli altri è poi una scelta, quindi nell'ambito dell'organizzazione magari rientra in una strategia.